Abbiamo giocato contro una squadra solida che a inizio partita ha fatto fatica in fase offensiva. Mi è piaciuto il nostro atteggiamento lì dietro, il nostro portiere è stato attento a come ha dato bene la difesa. Abbiamo sbloccata, forse meno secondo me meditatamente, e siamo stati bravi a non dare modo a loro di reagire, soprattutto dopo il primo gol, tanto che poi siamo andati in vantaggio di 5 e lì la partita si è messa sui nostri binari, su quello come giustamente hai detto, secondo quello che avevamo preparato. Sono contento perché la prima vittoria stagionale c'è tanta fiducia. Chiaramente parliamo di un obiettivo grande che fino a qualche settimana fa non avrei pensato di poter sognare neanche, perché gioco in un ruolo che non è il mio e mi sono messo a disposizione del mister che ha deciso di schiarmi centri avanti da inizio campionato e per adesso i risultati stanno arrivando e ci stanno dando ragione. so di avere tanta concorrenza alle spalle e penso che continuando così posso tenermi la maglia numero 9. Le posso rivolare.